Siamo molto lieti di avere di nuovo qui con noi Fabrizio Burattini, attivista politico e sindacale e coordinatore del sito refrattario.link che abbiamo presentato in una trasmissione precedente. Oggi volevamo discutere con Fabrizio di un concetto molto importante e però purtroppo anche molto divisivo tra le forze della sinistra radicale che si richiamano al socialismo, al comunismo, al marxismo che è il concetto di imperialismo. Perché facendo queste trasmissioni, discutendo con molti intellettuali marxisti o comunque vicini alla sinistra radicale, ci siamo resi conto che sono sicuramente gli intellettuali più validi che potrebbero dare un contributo eccezionale alla trasformazione della società in cui viviamo e che però il problema è che molto spesso sono separati gli uni dagli altri, non si parlano, spesso addirittura non si riconoscono e questo sicuramente è un aspetto che dobbiamo cercare di migliorare anche per migliorare la situazione in cui siamo. E quindi siccome ci siamo resi conto che uno dei motivi che più favorisce questa separazione, questo non parlarsi, non riconoscersi, è proprio il concetto di imperialismo e di conseguenza quali potenze possono essere considerate imperialiste e quali no, abbiamo iniziato questa inchiesta per cercare di chiarire e poi magari di mettere in comunicazione le diverse concezioni per vedere se poi più là sarà possibile magari individuare una qualche sintesi. Va bene, detto questo, do subito la parola a Fabrizio per dirci appunto qual è la sua concezione. Diciamo che intanto condivido quello che hai detto sul fatto che questa questione sia una delle questioni che travaglia, travagliano la sinistra a livello mondiale e in particolare la travagliano da quando è finita quella che è stata chiamata la guerra fredda, cioè nel senso che avevamo il mondo diviso in due fronti piuttosto compatti al loro interno anche se una serie di contraddizioni sia nell'uno che nell'altro fronte si sono realizzate, poi magari le ricorderò, però era evidente che era una contrapposizione tra un fronte che era certamente imperialista e nettamente guidato da un imperialismo dominante che era quello nordamericano e un fronte la cui definizione è più complessa perché nella sinistra ne abbiamo viste di tutti i colori, da quelli che erano entusiasti di quell'esperienza a quelli che ne avevano un approccio critico ma comunque di sostegno e quelli che invece lo definivano socialimperialista quindi quasi peggiore del fronte imperialista perché traditore anche delle aspirazioni delle classi lavoratrici dei popoli del mondo. Quindi diciamo abbiamo vissuto e molti di noi si sono formati in quella fase e anche coloro che sono arrivati alla sinistra successivamente per motivi anagrafici, ovviamente non fosse altro è chiaro che hanno subito, visto che la sinistra non è nata nell'89 ma anzi ha vissuto intensamente l'intero ventesimo secolo diciamo ovviamente anche coloro che sono arrivati negli anni immediatamente successivi alla alla fine della cosiddetta guerra fredda hanno subito diciamo quella quella impostazione e indubbiamente come dicevo questo questo tema è grandemente divisivo come hai detto tu è grandemente al centro della necessità di una discussione anche perché noi oggi viviamo in un mondo che è totalmente diverso da quello che di allora e che naturalmente risente dell'eredità di quel secolo breve chiamiamolo così come è stato chiamato anche se naturalmente è una definizione molto sintetica e per certi versi giornalistica ma anche se è frutto del lavoro di uno storico ma insomma diciamo che risentiamo ancora di quella di quell'eredità ed è inevitabile, tutti ne risentiamo, coloro che hanno una idea, coloro che ne hanno un'altra indubbiamente non è così. Naturalmente però il mondo in cui viviamo oggi, cioè quello della fine di quella contrapposizione tra blocchi diciamo programmaticamente diversi al di là del giudizio di valore sui due blocchi in particolar modo sul blocco orientale, in qualche modo tende a assomigliare di più la fase in cui ci viviamo oggi tende a assomigliare di più a quello che era il mondo prima dell'inizio del secolo breve o meglio prima della prima guerra mondiale cioè prima che diciamo iniziasse, apparisse nel mondo una prima potenza non capitalista come fu l'Unione Sovietica a partire dal 17 in poi e quindi che cambiò drasticamente gli schieramenti della cosiddetta geopolitica come viene chiamata da qualche tempo fino ad oggi quindi credo che sia utile in qualche modo riprendere quella che è la definizione diciamo la definizione originaria, classica dell'imperialismo che c'è stata lasciata, tramandata da Lenin nelle sue elaborazioni sull'imperialismo, non solo il volume che è proprio intitolato così ma anche altri lavori che Lenin ha fatto in quel periodo. Lenin sostanzialmente, in termini estremamente sintetici, come definisce l'imperialismo? L'imperialismo lo definisce quella fase del capitalismo in cui un piccolo numero di monopoli economici e di grandi potenze politico-statali dominano e sfruttano il resto del mondo. Sostanzialmente questo è il nucleo dell'imperialismo. Ora poi noi però abbiamo vissuto per decenni una situazione nella quale questo piccolo numero è stato largamente ridotto all'imperialismo americano perché ovviamente tutte le altre potenze più o meno grandi dell'Occidente erano largamente subalterne economicamente, politicamente per non parlare militarmente all'imperialismo americano. Tanto che a guerra fredda finita un stimabile, anche se io non condivido granché di tutto quello che lui ha detto, un stimabile teorico ma anche politico della sinistra, italiano come tu ben sai, cioè toni negri, elaborò la teoria dell'impero cioè tentò di sostituire alla concezione dell'imperialismo che per sua natura è multipolare tant'è vero che Lenin in tutte le sue elaborazioni, anche perché si riferisce a una situazione concreta che era quella appunto della situazione prima della prima guerra mondiale, usa sempre il plurale cioè un certo numero, piccolo numero di nazioni che con i loro monopoli e con i loro eserciti opprimono e sfruttano il resto del mondo, mentre invece toni negri brutalizzò un po' questa concessione con la teoria dell'impero, ovviamente basandosi sul fatto che l'imperialismo nordamericano in quella fase, ricordiamo c'era la fase delle guerre del Golfo e poi anche la fase della guerra dell'Afghanistan naturalmente aveva ancora, sull'inerzia del secolo precedente, aveva ancora una larga egemonia nonostante fosse largamente segnato da alcune iniziali sconfitte importanti non dimentichiamo che l'imperialismo americano ha fatto un sacco di disastri in giro per il mondo ma non ha mai vinto sostanzialmente una guerra non ha vinto in Corea, dove ha pareggiato non ha vinto in Vietnam, dove ha clamorosamente perso non ha vinto in Afghanistan, dove si è ritirato ignominiosamente lasciando una condizione peggiore di quella che aveva dichiarato di voler risolvere non ha vinto in tutto in innumerevoli altre operazioni militari in giro per il mondo ha vinto solamente in numerosi paesi, ha vinto attraverso operazioni più che militari politico-militari in numerosi paesi dell'America Latina, ma anche in Indonesia, in altri paesi dove ha sostenuto colpe militari più o meno fascisti o comunque reazionari basta ricordare il Cile, ma ovviamente non è l'unico contro significativi movimenti di liberazione che si stavano affermando quindi l'imperialismo americano ha conosciuto a partire in particolar modo dalla guerra del Vietnam ma anche con le sconfitte successive che ricordavo anche le guerre del Golfo che ho appena citato sono finite come sono finite cioè nel senso che l'imperialismo ha devastato quei paesi ma sostanzialmente non ha risolto nessuno dei problemi anzi oggi in Medio Oriente paga prezzi straordinariamente l'imperialismo americano paga prezzi pesantissimi proprio in forza a causa del suo avventurismo militare della fine del secolo scorso, inizio di questo paga prezzi attraverso la perdita sostanzialmente salvo Israele per ovvi motivi avendo perso sostanzialmente quasi tutti gli altri alleati strategici di cui prima godeva in quella regione del mondo quindi abbiamo una situazione che è uscita da quella chiamiamola parentesi, è durata come dicevo un secolo breve da quella parentesi di contrapposizione binaria tra l'est e l'ovest ma in una situazione che non a caso molti analisti politologi hanno definito di caos internazionale perché ovviamente a differenza di quei decenni della guerra fredda e per certi versi anche della parte precedente del XX secolo cioè quella tra le due guerre conosce una situazione largamente caotica proprio perché non c'è nessun ordine globale che può essere rivendicato con tutti quanti gli attori o perlomeno grandissima parte degli attori principali di questo scenario globale che sostanzialmente non rispetta nessuna delle norme convenzioni varie di Ginevra o dell'ONU carte dei diritti dei popoli che sono stati stipulati nell'immediato dopoguerra e che oggi sono bellamente ignorati da tutte le potenze internazionali da quelle principali e anche da quelle in qualche modo secondarie naturalmente c'è stato ancora dopo la fine della guerra fredda un tentativo dell'imperialismo americano di mantenere accesa la sua centralità con la cosiddetta guerra al terrorismo contro Bin Laden e contro l'ISIS eccetera ma in realtà già anche in quel periodo si iniziavano a manifestare importanti contraddizioni che potremmo definire interimperialistiche comunque che trasgredivano a questa centralità dell'imperialismo americano peraltro, lo accennavo prima anche nel periodo della guerra fredda non è andata così lisciamente nel campo occidentale naturalmente era una situazione ancora in cui l'egemonia statunitense era largamente indiscussa ma non dimentichiamo la crisi di Suez dove Inghilterra e Francia si schierarono contro gli Stati Uniti nel 1956 se non ricordo male non dimentichiamo l'uscita della Francia di De Gaulle dal comando della Nato a metà degli anni 60 e ancora peggio dicevo prima la parte della prima metà del XX secolo i prodromi della seconda guerra mondiale cioè lì c'era già l'Unione Sovietica diciamo che appunto è nata nel XVII ma diciamo questo non impedì pesantissime contraddizioni imperialistiche nell'Occidente tanto che si arrivò addirittura a una guerra mondiale la più devastante della storia la seconda guerra mondiale perlomeno la più devastante fino ad oggi incrociamo le dita in cui l'imperialismo americano fu costretto seppur molto contraddittoriamente naturalmente su questo sarebbe un'altra parentesi su cose molto diverse dal tema che stiamo toccando ad allearsi seppure tatticamente diciamo così con la stessa Unione Sovietica assieme agli altri alleati occidentali contro il nazismo contro la Germania nazista e anche contro il Giappone e non da ultimo anche contro l'Italia l'Italia fascista quindi diciamo in realtà l'imperialismo è sempre stato una realtà multipolare lo è sempre stata diciamo ha avuto una parentesi di semplificazione durante la guerra fredda e poi durante la cosiddetta guerra al terrorismo ma in realtà fin da quando Lenin la analizzò non dimentichiamo che non fu solo Negri a elaborare una teoria dell'impero ma ci fu un altrettanto stimabile ma forse ancor più non condivisibile di Negri teorico marxista teorico e politico marxista di estrema importanza certamente più di Negri e cioè Karkovsky che elaborò la teoria del superimperialismo che diciamo peraltro in forte polemica appunto con Lenin perché diciamo Lenin invece contrastava questo tipo di impostazione quindi credo che questo sia il quadro teorico diciamo così ovviamente non pretendo di averne fatto neanche una sintesi ma solamente schematicamente ricordato alcuni punti capisaldi diciamo fondamentali il capo teorico in cui la discussione che tu ricordavi dovrebbe, deve, deve svolgersi ora naturalmente noi oggi dobbiamo interrogarci su la natura di alcuni paesi che sono in primo luogo naturalmente la Cina cioè di alcuni paesi che dopo storie complesse se avrò tempo ci tornerò diciamo peraltro la Cina ha avuto certamente uno sviluppo economico anche grazie all'eredità che all'attuale Cina ha lasciato il periodo maoista perché è chiaro che la Cina a differenza di tantissimi altri paesi della quasi totalità direi dei paesi cosiddetti sottosviluppati o cosiddetti con una definizione, una terminologia ancora più ambigua diciamo del sud del mondo era un paese che aveva appunto l'eredità del maoismo e cioè aveva una iniziale seppur limitata industrializzazione cosa che tanti altri paesi sottosviluppati non avevano aveva soprattutto una classe lavoratrice larghissimamente alfabetizzata a differenza di quello che è avvenuto perlomeno fino a qualche decennio fa nella quasi totalità dei paesi sottosviluppati aveva una classe operaia attiva e diciamo anche per certi versi politicamente attiva e quindi aveva tutta una serie diciamo di elementi che ne hanno facilitato lo sviluppo però noi oggi adesso è chiaro che sarebbe complesso e richiederebbe un'attenzione specifica su questo enorme paese per altro complesso per natura perfino demografica e storica ma diciamo vediamo gli approdi oggi la Cina è prima e certamente seconda in quanto a PIL a prodotto interno lordo a livello mondiale ma è prima in parecchi campi e ha superato in parecchi campi gli Stati Uniti e prima nella produzione manifatturiera ovviamente non solo grazie alla sua crescita ma anche alla parallela deindustrializzazione dell'Occidente e di compreso degli Stati Uniti che hanno un grande PIL come hanno grandi PIL diciamo altri paesi occidentali ma per un'incidenza non di settori direttamente produttivi tu sai bene che i servizi incidono pesante significativamente sul PIL di tanti paesi occidentali mentre incidono molto meno nel prodotto interno lordo della Cina per evidenti motivi storici e anche di struttura economica diversa è prima per quello che riguarda le esportazioni a livello globale è il paese che esporta di più al mondo è il paese che ha il maggior numero di aziende enumerate nella classifica della rivista Fortune sai che la rivista Fortune pubblica ogni anno le 500 aziende più grandi del mondo la Cina è quella che ha il numero maggiore di aziende elencate in quella cosa chiaramente gli Stati Uniti hanno le prime alcune delle prime non tutte ovviamente ma la Cina ne ha un numero maggiore ed ha il doppio di miliardari in miliardi di dollari degli Stati Uniti naturalmente la Cina ha una popolazione che è tre volte abbondante anzi quasi quattro volte quella degli Stati Uniti quindi il prodotto interno pro capita e tutto il resto non sono per il momento paragonabili però è chiaro che siccome nella potenza incidono anche i fattori demografici come è ovvio e come è storicamente dimostrato questi elementi questi parametri non possono essere non possono essere dimenticati ora c'è nella sinistra una discussione sulla natura politico-sociale dello Stato cinese io ritengo che diciamo un paese che ha uno sviluppo capitalista di quel genere non possa che essere definito capitalista naturalmente con tutte le sue peculiarità storiche e per certi versi anche politiche ma ritengo che sia un elemento importante e chiaramente se un paese capitalista ha quella potenza ovviamente con una storia e con metodi parzialmente diversi da quelli degli Stati Uniti svolge e tenta di svolgere e svolge un ruolo imperialista in parecchie parti del mondo naturalmente non a livello dimensionale di quanto lo abbiano svolto e in qualche misura continuano a svolgerlo gli Stati Uniti ma sicuramente è sicuramente in misura considerevole e poi c'è ovviamente il problema della Russia che ovviamente ha una ha una vicenda e ha una dimensione oramai una dimensione economica molto diversa da quella della Cina ha una dimensione incomparabilmente superiore dal punto di vista geografico una dimensione incomparabilmente minore dal punto di vista demografico ha una presenza ha una potenza economica nettamente inferiori sia degli Stati Uniti che della Cina stessa però ha altri elementi di potenza politica che non possono essere dimenticati naturalmente in Russia c'è stata quella complessa vicenda della fine del crollo dell'Unione Sovietica e del crollo del sistema del modo di produzione del sistema politico che su quel modo di produzione si era costruito a partire dal 17 in poi naturalmente tra il 17 e l'89 non ci sono solo sette decenni ma ci sono anche un sacco di vicende complesse economiche e politiche e però diciamo la Russia più o meno indebitamente diciamo mantiene anche anche lei alcune delle eredità della dell'Unione Sovietica così come ho detto prima per la Cina rispetto all'eredità del del maoismo cioè nel senso che mantiene un significativo sviluppo sviluppo economico mantiene una notevolissima forza militare adesso poi diciamo è ozioso vedere se è un po' più forte o un po' meno di quella degli Stati Uniti sicuramente come spesa militare infinitamente minore ma lì i parametri anche di comparazione sono difficilmente diciamo da mettere sullo stesso piano ha una forza un arsenale nucleare e anche uno sviluppo di nuove tecnologie militari sicuramente superiore a quelle degli Stati Uniti sulla questione delle armi supersoniche sicuramente e non dimentichiamo perché non è affatto irrelevante è uno dei pochissimi paesi sono cinque se non sbaglio dei cinque paesi che hanno il diritto di veto all'ONU e comunque ha un ruolo chiave a livello internazionale a livello mondiale come abbiamo visto in tante occasioni insomma quando succede una crisi nessuno va a vedere che cosa dice la Grecia ma molti tutti vanno a vedere che cosa dice la Russia perché ovviamente è ancora seppur ovviamente con una capacità di intervento molto minore di quella che poteva essere nel secolo scorso diciamo ha certamente un ruolo che molti altri paesi non hanno quindi questo è un po' il quadro in cui si svolge la discussione io ritengo che per concludere un attimo questa mia questa mia risposta alla tua sollecitazione insomma è un po' questo il quadro nel quale la discussione si svolge e in cui dobbiamo tentare di diciamo di avere usare citato Lenin quindi voglio dire non è che sono tu poi mi conosci non sono affatto un nuovista diciamo così però diciamo dobbiamo usare quello che ci hanno lasciato come elaborazioni teoriche e anche come indicazioni politiche i nostri classici o comunque i nostri maestri diciamo così ma anche capire come applicare quelle interpretazioni a un mondo che è largamente cambiato non ti sento non ti sento pronto non ti sento non so perché l'ho sentito benissimo fino ad ora scusami ma ho anche perfino il volume al massimo non so purtroppo non non ti sento è tutto è tutto a posto qua nel mio nel mio schermo ecco adesso mi pare che ti sento di nuovo no 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 mi sembrava c'è stato un momento di non so che cosa cosa fare perché prova ora di nuovo perfetto grazie perfetto grazie allora adesso ti ti sottopongo diciamo sottopongo diciamo quello che dicono altri diciamo teologici così per quello che dicono altri diciamo teologici così per sviluppare un a scusa cosa cosa si mi senti adesso si mi senti adesso si ora ti sento si ora ti sento non mi senti mi senti mi senti ora ti sento si ora ti sento io ti sento bene va bene te non mi senti più no no ti sento ti sento vai ok